La tessera Flashbook Si può disporre sia della tessera singola, sia di un modulo multiplo a 4 book. Mentre alla prima si può accedere in tutti i modi già elencati, come ad esempio dal menu principale, scegliendo Apri tessera, selezionando il Flashbook. Il Flashbook a 4 moduli può essere solo trascinato dal cassetto Tessere, in questo modo. I 4 moduli si presentano sullo schermo affiancati a costituire un unico gruppo, ma possono poi essere chiusi e anche spostati singolarmente nel modo tradizionale. Questo analogamente a quello che avviene per gli altri gruppi di tessere incollate. Il Flashbook di Darwin funziona come quello tradizionale, per il quale vi rimandiamo all'apposito video. Vi sono però alcune piccole differenze. Il numero di livelli non si può scegliere direttamente dalla barra di intestazione, ma solo attraverso il menu di tessera, scegliendo la voce Profondità e quindi selezionando il numero di livelli desiderato. All'inserimento di uno Stop Order non compare la consueta icona mobile, ma una diversa colorazione delle righe corrispondenti ai livelli di prezzo prescelti, a scorrimento del prezzo segnale fino al prezzo limite. La visualizzazione del ticker si ottiene aprendo una tessera separata denominata Time & Sales. Vediamo ora di approfondire il menu di tessera, apribile da ogni modulo del Flashbook con il tasto destro. Dal menu di tessera riferito al Flashbook è possibile selezionare la profondità che, come detto, permette di modificare il numero di livelli visualizzati. Con la voce Centra il book qui, si può scegliere il livello su cui centrare la scala dei prezzi. Le voci Stop Order e Stop All servono ad inserire gli ordini condizionati. La voce Ricorda il prezzo permette di inserire degli indicatori ai livelli di prezzo desiderati. Con la voce di menu Stream, si può guadagnare spazio visualizzando solo la colonna dei prezzi. Con la voce di menu Bloccato, è possibile bloccare le funzioni di immissione degli ordini, utile per chi vuole solo consultare l'andamento degli scambi, senza rischiare di inviare ordini inavvertitamente. Se un Flashbook è bloccato, compare il simbolo del lucchetto in questa posizione, cliccando sul quale è possibile abilitare nuovamente l'operatività del book. La voce di menu SMS per prezzo permette di attivare degli alert via SMS. Attraverso la voce Preferenze Flashbook, è possibile impostare le altre personalizzazioni di carattere generale. Le preferenze del Flashbook sono anche raggiungibili dal menu principale, attraverso la voce Utilità, Preferenze, selezionando poi appunto tra le diverse componenti il Flashbook. Con la voce Compatta, è possibile ridurre la larghezza della tessera, tenendo presente che il comando si estende a tutti i book e alle tessere Time and Sales uniti in uno stesso gruppo. Sempre riferiti al menu tessera, le ultime voci sono quelle consuete che permettono di aprire una tessera a fianco, aprire il menu principale attraverso la voce Comandi principali, aumentare al massimo l'altezza della finestra, chiudere la tessera e uscire dal menu.